Sindaco, finché le imprese aprono le porte degli stabilimenti si presentano, è un buon segnale per l'economia? Soprattutto a Casola è un buon segnale, perché comunque la nostra economia ne ha bisogno, Vitriceramici è uno stabilimento, un'impresa importante, quindi queste occasioni sono sicuramente molto molto belle per tutta la provincia e per tutto il nostro territorio. Questo è un esempio che si può fare in industria anche in provincia, anche decentrati, anche in collina? Questo è quello che è successo qui a Casola 30 anni fa, quando questa zona artigianale in una zona che ora invece sarebbe difficile da rifare produce invece tanto lavoro e produce delle imprese di qualità, leader nel mondo, nei loro settori, quindi questa è la risposta che sicuramente anche a Casola si può fare in presa, in presa soprattutto di qualità.